arrivano oggi gloopers allora sono questi mostri ce ne sono ben tre nella confezione vedete dalla bocca che fanno qualcosa di particolare infatti li premi ed esce lo slime sono carini simpatici da maschietto che da maschietto c'è sempre tanto poco e si interagisce con lo slime eccolo qua lo premi lo rilasci per far entrare lo slime e lo premi per far uscire costano 7 euro e 50 e sono al momento questi tre soggetti